Buongiorno amici e amiche di RBA, vi parlo da Terra Madre, siamo al Parco d'Ora per Terra Madre 2024, il Salone del Gusto, evento Slow Food che torna quest'anno fino al 30 di settembre, tanti appuntamenti intorno alla necessaria discussione sulle politiche alimentari, sul cibo buono e sul buon cibo. Abbiamo innanzitutto tanti appuntamenti che saranno approfonditi con incontri, con talk, laboratori qui al Parco d'Ora e nelle sedi del Terra Madre Off, abbiamo avuto modo di parlare già nei giorni scorsi del programma molto fitto, molto intenso di Terra Madre che vedrà RBA trasmettere proprio qui dal nostro stand, siamo vicino al padiglione A dove risiedono i presidi Slow Food. E a proposito dei presidi Slow Food e di tutta la politica di tutela di questi presidi, ho il piacere di avere qui con noi, qui su RBA, al nostro stand, la persona che si occupa in particolare come responsabile dei presidi. Mi riferisco a Raffaella Ponzio, grazie Raffaella per essere qui, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Ben arrivata su RBA, innanzitutto partirei proprio dal lavoro, dal suo lavoro responsabile dei presidi Slow Food, questa risorsa che caratterizza Slow Food praticamente fin dalla nascita di questo progetto di Carlin Petrini, creato da Carlin Petrini. Come si è evoluto il progetto dei presidi? Ma prima ancora, cosa sono i presidi? Immaginiamo di raccontarlo a chi effettivamente non sa cos'è questa risorsa. I presidi sono dei progetti di valorizzazione che coinvolgono le produzioni che in qualche modo rischiano l'estinzione, quindi prodotti tradizionali di ogni tipo, possono essere formaggi, salumi, ma anche varietà vegetali, quindi ortaggi, frutti, pesci, qualunque trasformato tradizionale o risorsa della biodiversità che in qualche modo corre un rischio di scomparsa. Perché la biodiversità la stiamo perdendo, questo dall'allarme della FAO di ormai sono veramente tantissimi anni, 40-50 anni, è universalmente riconosciuto che la nostra alimentazione si fonda su un numero sempre più basso di varietà vegetali o di razze animali autoctone. Quindi Slow Food 25 anni fa ha pensato di dare valore alle persone che custodivano queste varietà, che continuavano con i loro saperi artigianali a produrre ad esempio formaggi straordinari, perché ha pensato che l'unico modo per salvare la biodiversità è ricercarla, cioè acquistare questi prodotti e aiutare i produttori. Quindi ogni presidio identifica una specifica biodiversità che ha bisogno di essere sostenuta e noi con le nostre scelte di tutti i giorni possiamo dare una mano, semplicemente acquistando e consumando questi prodotti. Quindi è la difesa della biodiversità che caratterizza un presidio? Assolutamente, il valore di base è questo. Quindi la difesa e la preservazione della biodiversità come valore che emerge qui dai talk, dagli incontri, dai laboratori di Terra Madre anche quest'anno. Avremo tra poco qui con noi diversi presidi che si presenteranno per la prima volta, insomma ci sono presidi nuovi che arrivano da davvero molte parti del nostro paese e questo fa sicuramente piacere. Come si sta evolvendo il progetto nel corso degli anni? Siamo a vent'anni dalla prima edizione di Terra Madre, come si sta evolvendo? È incredibile, ma forse è uno dei progetti di più lungo corso dell'associazione. Noi siamo partiti nel 2000, i presidi allora erano 90 alla prima edizione, oggi sono diventati 400 circa in Italia, sono più di 600 nel resto del mondo. Quindi in Italia vuol dire che ci sono, se valutiamo il numero dei produttori, sono almeno 2600 piccole aziende familiari che in qualche modo beneficiano di un'attività di informazione da parte di Slow Food e anche di valorizzazione per i loro prodotti. È un progetto straordinariamente vivace che comunque ha ancora una forza importante sicuramente in questo paese ma anche all'estero e non dà assolutamente segno di regressione. Questo ha un significato positivo, vuol dire che questi progetti servono, che sono importanti per i produttori e quindi anche le istituzioni che li appoggiano li riconoscono come una risorsa da sostenere. Per altri versi significa che c'è ancora tanto lavoro da fare, vuol dire che questo paese che ha una biodiversità straordinaria nell'ambito del Mediterraneo, uno dei paesi che per via dei climi diversi, dei territori diversi ha risorse straordinarie, ha ancora molto bisogno del supporto di tutti noi per poter continuare ad esistere. La risorsa dei presidi è un tema importante secondo me rispetto ai presidi e la biodiversità e la comunicazione, come comunicare alla fine a noi persone che consumiamo e che abbiamo bisogno del cibo. Quindi come far passare questo messaggio in un'epoca in cui siamo abituati a scorrere un feed di un social qualsiasi e ci vengono prodotti, vengono dati in pasto, nel vero senso della parola, prodotti di ogni tipo, non sempre diciamo consoni all'idea di salute. Penso che questo sia un passaggio importante. Sì, assolutamente. Infatti, proprio per far fronte ad un'esigenza di conoscenze, anche di trasparenza, noi circa 15 anni fa abbiamo avviato un progetto che è quello dell'etichetta narrante, ovvero i produttori dei presidi hanno sulle loro etichette il marchio del presidio Slow Food, quindi la chiocciolina, e oltre a questo riportano, a volte con un codice QR, a volte con un testo più esteso, più completo, un'informazione completa su tutta la produzione. Cioè c'è la storia di questo prodotto dalla terra, dall'alimentazione degli animali, fino alla lavorazione del formaggio finale. Quindi quando si acquista un prodotto di presidio, se non lo si trova in un evento in cui puoi parlare direttamente con il produttore, che questo è un dialogo che noi cerchiamo il più possibile di preservare, di stimolare, quando non c'è la possibilità di interloquire direttamente o di andare in azienda ad acquistarlo, sulle etichette c'è il racconto, c'è la storia, c'è la narrazione di questo prodotto. È qualcosa che sembrerebbe banale detto così, in realtà non ci sono altri prodotti che hanno un'informazione così completa. Informazioni complete, informazioni che devono arrivare, evidentemente in un marasma di informazioni, che per realtà finisce per essere disinformazione, parliamo ovviamente del tema del cibo. C'è un dato che a me incuriosisce, di cui abbiamo in modo di parlare tempo fa con Barbara Napini, presidente di Isro Food Italia, che riguarda quel prezzo al chilo. Ci sono degli ovetti di cioccolato di cui non ci rendiamo conto, ma hanno un prezzo al chilo molto elevato. E poi altri prodotti che hanno un prezzo magari importante, lì per lì, se ne guardiamo l'etichetta, prima di leggerne quella storia dell'etichetta di cui parlavamo poco fa, Raffaella, che però ci bloccano perché è ma costa caro, però ci orientiamo verso quel prodotto che in realtà lì per lì ci sembra più a buon mercato, magari con un 0,99 vicino. Come fare a dare un'alternativa a questa comunicazione? Immagino che Isro Food voglia andare anche in questo senso, continui ad andare in questo senso. Sì, guardi, uno dei prodotti su cui è bene fare la massima attenzione, ed è anche uno dei più significativi, è ad esempio la carne. Quindi siamo in un momento storico in cui la carne, vuoi di pollo, vuoi la carnovina, vuoi la carne vaccina, insomma hanno raggiunto sul mercato normale dei prezzi bassissimi. È incredibile quanto poco costi la carne di pollo che è così consumata. Ne parlavamo ieri sera in una conferenza dove c'era un piccolo allevatore che ha 400 capi di una razza che è la gallina bianca di Saluzzo, ha un allevamento in montagna, lui produce uova, e dice che lui con la moglie hanno un allevamento di 400 capi. Lo stesso numero di persone può invece badare ad un padiglione di 10.000 polli. La differenza è quale? Come spiegare alle persone che acquistano le uova, che quell'uovo che costa magari tre volte tanto il costo di un uovo normale, merita questo prezzo? Bisogna fare uno sforzo, dobbiamo tutti quanti noi entrare nell'ottica che se vogliamo del cibo salubre, del cibo anche buono, quindi anche organeletticamente buono, dobbiamo fare uno sforzo di conoscenza in più, dobbiamo avere quello stimolo in più a diventare più curiosi, insomma, ad interessarci, perché se tu vuoi allevare bene un animale, quindi vuoi garantirgli gli spazi che gli servono, vuoi garantirgli il contatto con la natura, vuoi garantirgli un'alimentazione fondata su granaglie di produzione locale, non su soia che arriva dal Brasile, inevitabilmente questa carne o queste uova devono costare un po' di più. E qui ci colleghiamo al discorso dei prati stabili, io ricordo l'anno scorso a CIS, più o meno di questi tempi si parlava di prati stabili, sono stati al centro dell'evento Slow Food di Bras, legato al mondo dei formaggi, ma anche evidentemente all'allevamento, ecco, come si sta evolvendo in chiusura, come si sta evolvendo questo progetto dei prati stabili? Sì, quest'anno a Terra Madre stiamo presentando i primi 30 produttori di una rete nazionale, che è la rete dei custodi dei prati stabili e dei pascoli. Sono due anni circa che abbiamo avviato un progetto di ricerca, accompagnati anche da alcune università, l'Università di Torino, quella di Palermo, la Fondazione Mac in Trentino, l'OIAR della Valle d'Aosta, e abbiamo mappato i produttori che conservano e preservano i contesti naturali, in cui pascolano gli animali o in cui si produce il fieno con il quale alimentare gli animali. Sono le praterie naturali, tutti quanti siamo abituati a pensare ad un prato come qualcosa di semplice, comune, che vediamo intorno a noi. Gli animali mangiano l'erba e l'erba viene vista come tutto uguale, un tutto indistinto. In realtà i prati possono essere altamente biodiversi, con decine se non centinaia, oltre centinaia di erbe diverse. E questi prati li stiamo perdendo, perché comunque la montagna si spopola, perché in pianura l'urbanizzazione ruba spazio all'agricoltura. Però questi prati sono fondamentali per avere un latte di alta qualità, un latte che contiene molti più antiossidanti omega 3. Noi ci compriamo il latte addizionato di omega 3, ma in realtà mangiare i formaggi fatti con un latte che viene da animali allevati su un prato stabile ci garantisce un apporto incredibile di antiossidanti. Quindi quello che volevamo fare quest'anno era presentare i primi 30 produttori. Sono qua tra gli stand, sono indicati con un cartello prati stabili e pascoli e saranno sul mercato da adesso in poi. Grazie Raffaella Ponzo. Ci saranno altri approfondimenti durante Terramata 2024 rispetto ai prati stabili, rispetto ai presidi, che ricordiamo sono una risorsa che ha bisogno di essere sostenuta, anche perché il produttore della gallina bianca di Saluzzo, lui con le sue 400 galline deve portarla a casa in qualche modo. Quindi c'è anche questo lavoro da fare con Slow Food e con la comunicazione. Altri eventi di questi anni per quanto riguarda Terramata, grazie a Raffaella Ponzo per essere stata con noi, buon lavoro. C'è molto da fare, ma vedo che c'è entusiasmo. Grazie a voi. Ciao. Grazie a tutti.